Ciao amici e benvenuti ad un altro video del vostro Rockwine, benvenuti ad un'altra mia recensione. Come vedete oggi vi recensirò queste due bellissime action figure direttamente dal film Black Panther, prodotte dall'Asbro. L'action figure in questione che vi recensirò sono appunto la versione classica di Black Panther e l'action figure di Eric Kilmonger. E quindi iniziamo la recensione delle loro confezioni. Come vedete appunto si presentano in queste card dove in alto a sinistra c'è il logo del film appunto Marvel Black Panther e a destra appunto c'è la sagoma di questa immagine appunto di Black Panther in azione, direttamente appunto presa dall'artwork del film. Sul davanti delle confezioni abbiamo appunto questi blister dove all'interno ci sono queste action figure con tutti i loro accessori. Sempre all'interno nel blister giù abbiamo appunto questa card con i nomi dei rispettivi personaggi e sulla destra una fotografia appunto del personaggio in questione con i suoi accessori. Sullo retro della confezione abbiamo in alto a sinistra sempre il logo del film Black Panther, più in basso ancora abbiamo il nome del personaggio in questione e accanto a destra abbiamo appunto la sagoma disegnata del personaggio in questione. Più in basso ancora abbiamo una piccola checklist di altri personaggi disponibili e più in basso ancora avvertenze varie e logo Asbro. Ed ecco fuori dalle loro confezioni queste due bellissime action figure con tutti i loro accessori. Diamo agli un'occhiata un po' più da vicino. Ed ecco qua il primo piano di questa bellissima action figure di Black Panther. Guardate com'è bella, com'è scolpito bene. Devo dire che per essere un action figure base non mi dispiace affatto. Guardate la maschera come è disegnata benissimo. Veramente. Mi piace davvero. Guardate qua i particolari amici. No, 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 veramente. Per essere un action figure base è veramente ben realizzato il viso. Scendiamo un po' giù. Guardate qua il torace come è ben fatto. Sempre tutto appunto ben dettagliato. Guardate qui che texture che ha in tutto il corpo. Vediamo qua le braccia. Vedo che in queste action figure ci sono varie dimenticanze di painting. Però purtroppo dobbiamo ricordarci che sono action figure basi. E quindi è un miracolo se anzi le realizzano così. Perché vi ricordo bene che prima le action figure che realizzavano verso il 2012 erano qualcosa di davvero terrorizzante. Anzi, devo dire che come qualità e come dimensioni sono nettamente migliorati. Vediamo il retro. Vediamo il retro. E passiamo all'action figure di Eric Kilmonger. Guardate com'è fatto bene. Lui, devo dire che forse è molto più ben scolpito. Ha molti più dettagli. Guardate qui lateralmente questa scritta. ha anche diverse tonalità di colore, chiaro e scuro. Sulla fronte, vedete, ha i occhi dorati, ha i dentini d'oro. Anche da questo lato ci sono dei dettagli. E' veramente bellissimo. Scendiamo sul torace. Anche qui ci sono varie sfumature di colore. Texture dappertutto. Vediamo qua le braccia. Bellissimo. Vediamo qua le gambe. Allora, queste action figure sono fornite di alcuni accessori. E vediamo quali sono. Allora, Black Panther è fornito di questa lancia realizzata qua appunto in gomma morbida. Come vedete, ai lati ha queste lame, diciamo. Le punte d'acciaio. Che naturalmente qui sono realizzate in plastica traslucida. Blu, che vuole ricordare appunto l'effetto del vibranio. Invece, Eric Killmonger è accompagnato da due accessori. Sempre con effetti di vibranio. Qui abbiamo questa specie, non so, di macette direi. Spada don'è. Quindi, credo, una specie di macete. Sempre con effetto appunto in vibranio. Che vuole ricordare appunto l'effetto vibranio. Anche qui realizzato in plastica traslucida, blu. E poi abbiamo questa piccola lancia argentata, realizzata in morbida gomma, con questo piccolo effetto anche qui di vibranio. Blu traslucido. Le articolazioni di queste due action figure sono un punto di snodo di rotazione sulla testa. Le braccia possono ruotare, si possono allargare. Poi abbiamo un piegamento e una rotazione nei gomiti. E infine le gambe possono andare solo in avanti. E niente più. E queste sono tutte le articolazioni di queste action figures. Questa, amici miei, era la mia recensione dedicata a queste due stupende action figure direttamente dal film Black Panther. Queste due bellissime action figure in versione base, realizzate da Asbro, che misurano un'altezza di circa 15 centimetri. E quindi, amici, questo era il mio video. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento scritto o con un mi piace. Al prossimo video, come vi dico sempre, ma che cosa è?